Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti. Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune. E anche la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace. Ci aiuti in questo impegno quotidiano la Santa Madre di Dio.